Cresce il legame tra artigianato ligure e turismo. Il 14,8% di micro imprese artigiani liguri è potenzialmente interessato dalla domanda turistica, un dato stabile rispetto al 2017 a differenza di quanto avviene nel resto d'Italia. Lo evidenziano i dati di Union Camera elaborati da Confartigianato. In sostanza rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, le 6.486 micro imprese liguri interessate ai flussi turistici risultano in lieve aumento, più 0,1%, a fronte di un trend italiano in calo dello 0,8% e una media del nord-ovest negativa dello 0,1%. I settori effettivamente interessati dalla domanda turistica vanno dall'abbignamento e calzature ai servizi e altre attività manifatturiere. Seguono l'agroalimentare, i trasporti, la ristorazione, le pasticcerie. Genova, con la maggior parte di micro imprese artigiane interessate, oltre 3.500, è perfettamente in linea, più 0,1%, e spicca anche tra le 24 province italiane in crescita, con più di 1.000 realtà artigiane interessate al turismo. Positiva anche la Spezia, più 2,2%, con 806 imprese artigiane legate all'economia turistica, così come Imperia, più 0,5%, 854 micro imprese. Negativo dell'1,5% invece il dato su Savona, che conta oltre 1.200 micro e piccole imprese artigiane interessate dalla domanda turistica.